Eccovi per il fine settimana la situazione meteo. Vediamo insieme le maggiori precipitazioni. 71 cm a Casera-Palantina, 112 cm a Passo-Campo-Grosso, 85 cm a Malgaloche, 66 a Malgalarici, 138 a Campo-Moulon, 36 sul Grappa e 91 cm sul Monte Lissier. Le miti temperature della settimana hanno determinato processi di fusione del manto nevoso con conseguente riduzione dell'estensione della copertura nevosa e di indiminuimento degli strati superficiali con la formazione di croste portanti fino a 2.000-2.200 metri anche sui versanti settentrionali. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato e i pendii pericolosi sono caratterizzati da accumuli da vento di vecchia formazione e da singoli versanti in ombra. L'attuale grado di pericolo valanghe è di grado 2. Da sabato sera è previsto un peggioramento del tempo con precipitazioni nevose oltre i 900 e i 1.200 metri in innalzamento di quota. Gli apporti previsti entro domenica sono di 5-15 cm a 1.500 metri. Le temperature sono previste in aumento da lunedì. I venti saranno in generale debole. Da domenica il pericolo di valanghe sarà marcato 3 in relazione alla quantità di neve fresca caduta. Dati e previsioni Arpa Veneto. Dati e previsioni Arpa Veneto.